Il più cordiale saluto da ETG Edizione Marchigiana del nostro notiziario che ricordo va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di ETV, canale 12 che in streaming sul nostro sito ora inquadrato www.etvmarche.it In apertura di questa edizione la cronaca notizia che ci porta a Serravalle, anziana muore dopo aver accusato un malore mentre era alla guida della sua vettura. La donna aveva 82 anni, viveva a Pieve Torina, il dramma a Serravalle di Chienti in contrada a Cornieto. Erano circa le 17.30 quando si è verificato l'accaduto, la donna insieme con la sorella stava viaggiando con la sua auto quando improvvisamente si è sentita male, ha fatto in tempo ad accostare il veicolo è scesa ma poco dopo è caduta a terra. Inutili purtroppo i soccorsi, la donna ha perso la vita sotto gli occhi della sorella. Torniamo ora sulla strage nelle moschee in Nuova Zelanda, una strage che ha colpito anche le Marche perché c'è stata una rivendicazione, una dedica nei confronti di Luca Traini, l'attentatore di Macerata. Attacchi in Nuova Zelanda sul nostro sito etvmarche.it. Da Shan il terrorismo è una deviazione mentale. Così il presidente merito dell'Unione delle Comunità Islamiche. Questa mattina una manifestazione rispetto a questa strage. La comunità islamica marchigiana è scesa in piazza. C'eravamo anche noi. Scendiamo solo per far capire alla gente e ai nostri giovani e a tutti i giovani che la violenza è sbagliata e non serve a niente e crea solo violenza. Perciò è un messaggio di pace. Per quello che è accaduto era una cosa assurda. Quello che colpisce è perché sono giovani. I giovani devono pensare a costruire, non a distruggere. Purtroppo la mente di questa gente è stata caricata in modo sbagliato. Quello che noi cerchiamo di cambiare nelle idee dei nostri giovani. E questo ha importanza, che devono costruire, non distruggere. La comunità marchigiana è una delle prime in Italia. Dal 1973 al 1992 in tutte le Marche c'era una sola moschea in Ancona. E poi nel 1992 è nata la seconda. Fortunatamente siamo nati uniti. E' nata la comunità islamica delle Marche. Per questo, non come dicevano i fratelli fuori provincia, dentro provincia. Siamo nelle Marche, non solo. Ma io sono stato 16 anni presidente della comunità islamica d'Italia. Per questo, in qualsiasi zona dell'Italia, mi trovo cittadino, insomma. Non mi trovo fuori zona. Cambiamo argomento alla discoteca lanterna azzurra di Corinaldo. Sono state trovate tracce di capsaicina e dilidrocapsaicina, composto chimico presente nel peperoncino, concentrate soprattutto nei pressi dell'uscita di sicurezza alla piano terra della Sala 1. L'uscita dove si sono precipitati in massa i giovani che la notte tra il 7 e l'8 dicembre aspettavano il concerto del Trepper, Sfera e Basta. Una notte dove, lo ricordiamo, morirono sei persone. Una notte che è stata al centro anche dei festeggiamenti dei 50 anni dell'Università Politecnica delle Marche con la presenza di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, che appunto ad Ancona per l'inaugurazione dell'anno accademico ha auspicato, pensando a Corinaldo, che si faccia giustizia con rigore perché quello che è avvenuto, ha detto Mattarella, non è assolutamente ammissibile che avvenga, non si deve ripetere mai più. Andiamo a macerata perché c'è anche il direttore del Cosmari, Giuseppe Giampaoli, tra gli indagati nell'ambito dell'inchiesta sul lamianto nelle macerie del post-terremoto. Nei giorni scorsi i carabinieri forestali hanno effettuato un sopralluogo nell'impianto del Cosmari dove vengono conferite le macerie post-sisma, prelevando dei campioni di materiale inerte. Vi terremo aggiornati. Sia di inizio settimana, la cronaca ci porta ad Ancona, il pugno duro delle forze dell'ordine aveva colpito i posteggiatori abusivi. Venerdì è toccato ai mendicanti che stazionano all'ingresso dei supermercati con la speranza di raccimolare qualche spiccio. Due sono finiti nei guai dopo i controlli dei carabinieri nella stazione di Colle Marino. Si tratta di un nigeriano di 25 anni senza fissa dimora irregolare e di un clochard romeno. Il primo è stato portato in caserma, poi accompagnato al centro permanenza di espulsione di potenza. Il secondo, 40 anni, è stato denunciato per inottemperanza al foglio di via da Ancona. Entrambi sono stati trovati nei pressi dell'ingresso del Lidl a Torrette. Ci spostiamo a Tolentino. Un uomo di 51 anni è caduto con il parapendio in zona Le Grazie. Una caduta shock da un'altezza di 15 metri che gli è costata diversi traumi. L'uomo è stato portato in eleambulanza all'ospedale regionale Torrette di Ancona, sul posto carabinieri 118. Fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita. È stata invece trasportata d'urgenza a Torrette, una donna di 51 anni che, attorno alle 10.30 ieri, si è ustionata entrambe le gambe con acqua bollente che le è finita addosso in seguito ad un brutto infortunio domestico. I manici della pentola nella quale stava bollendo dell'acqua si sarebbero improvvisamente staccati. A Pesaro, ora per una notizia che ha sconvolto tutta la provincia e anche la nostra redazione, la redazione di ETV, Stefano Pinto, noto wedding planner pesarese figlio del conte Renato Pinto, è morto ieri per una valore fatale a soli 46 anni. Da quanto appreso aveva lavorato senza sosta in questi giorni per organizzare alcuni eventi. Da tempo viveva a Borgo Lanciano, a Castella Raimondo, in una splendida villa, hotel spa, a Quattro Stelle, teatro di molti matrimoni che organizzava da anni con grande maestria. Tra questi matrimoni anche quello che aveva riguardato da vicino ETV dedicato al nostro collega Alessandro Tizzani che è volato a giuste nozze quest'estate proprio grazie alla regia di Stefano Pinto con la sua viola. Condoglianza anche da parte di ETV e di Radio Center Music. Parliamo ora di lavoro, dati positivi, soddisfazione del presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, per i dati Istat sul lavoro del 2018. Un risultato importante che certifica una 2018 in ripresa, ha spiegato il governatore. Rispetto. Allo 2017 la regione Marche è prima per miglioramento del tasso di disoccupazione, sceso di 2,5 punti a fronte di una media nazionale di 0,6 punti. Conquistiamo così, ha detto Ceriscioli, tre posizioni nella classifica delle regioni italiane. Tempo di bilanci per Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno. Bilancio di fine mandato, dieci anni che hanno cambiato la città a partire dal piano regolatore, ancora fermo al 1972. Nel presentare il suo libro Report, tutto quello che conta, il primo cittadino è stato contento del suo risultato. 200 pagine di bilancio finale del mio mandato, ha detto Castelli. Non vogliono essere autocelebrative, ma come diceva Santa Caterina da Siena, a ogni sindaco le città vengono date in prestito. Parliamo ora di sport. Partiamo dalla festa, perché è stata una festa in ricordo di un uomo straordinario, Michele Scarponi da Tirreno Adriatico. Ci piace ricordarti così. Camerino lo ha omaggiato. È un'emozione molto grande, perché qui a Camerino Michele incominciò la sua seconda parte di carriera, quella vittoria fu fondamentale per lui, lo proiettò di nuovo nel grande ciclismo, e quindi siamo molto legati a questo luogo, a questa città che oggi purtroppo è ancora malata, ma speriamo guarisca presto e ritorni a vivere come quel giorno in cui Michele alzò le braccia su questa piazza. Quel giorno era il 16 marzo del 2009 e Michele vinse a mani alzate la sesta tappa della Tirreno Adriatico, trionfando in quell'edizione proprio grazie all'emozionante scalata di Camerino. Molto toccante ed emozionante la cerimonia, voluta da Fondazione Michele Scarponi e ASD Frecciazzurre, con tanti ricordi dell'Aquila di Filottrano attraverso i filmati delle sue vittorie e gli aneddoti di chi lo conosceva da vicino. Un uomo, un padre, un atleta, uno sportivo, ma soprattutto un amico vero di questo territorio. Io non posso non ricordare quando, durante quella che era il pranzo, l'appuntamento annuale del suo fan club, Michele parlò di questa città in maniera sublime, straordinaria, volendo anche dare concretamente, con un gesto molto significativo in termini economici, una donazione importante, il suo affetto ed il suo amore per tutti noi. Oggi, dopo dieci anni, Michele purtroppo non c'è più e non c'è più nemmeno quella piazza ingabbiata in una messa in sicurezza che ne chiude la speranza, ma la speranza, si sa, è l'ultima a morire e proprio dal ciclista marchigiano arriva il primo vero bagliore di luce per il futuro. Un passo essenziale, ma certo con i piedi molto più per terra, perché quelle che sono le norme oggi legate alla ricostruzione non solo non ci fanno essere contenti, ma ci fanno essere molto preoccupati ed attenzionati su un percorso che spero questo governo riuscirà ad invertire, perché altrimenti rimarremo solo con delle aperture figlie di messe in sicurezza obbligatorie sulla pubblica via, quindi situazioni di pura emergenza, ma che non si legano se non come un percorso obbligato alla ricostruzione. E a proposito di ricostruzione, come potete vedere dalle immagini, la tappa del Tirreno Adriatico è stata anche l'occasione per far sentire la propria voce da parte dei comitati, presidio del coordinamento dei comitati terremotati per protestare a fronte, si legge in una nota, di una ricostruzione assente di fondi sisma destinati fuori dal cratere. Striscioni e cartelli con nomi dei paesi maggiormente colpiti dal sisma in caso i nostri politici non sapessero quali siano, si legge ancora nella notte, e tante foto di Pinocchio poiché finora ne abbiamo incontrati troppi e a tutti i livelli. Questo lo sfogo dei comitati sarà l'occasione per approfondire questi temi e per vedere altre immagini e sentire le testimonianze dei comitati post-sisma, mercoledì con Sibilla, la nostra trasmissione curata dalla collega Linda Cittadini sul tema della ricostruzione. Restiamo nel tema sportivo con il calcio, l'Anconitana che torna a vincere. L'Anconitana deve assolutamente tornare a correre, soltanto un risultato per gli uomini di Francesco non c'era, anche perché la Vigor ieri ha portato a casa i tre punti ed è arrivata ad un soffio da una lunghezza. Dalla formazione bianco-rossa, Zaldua, Marengo, tutto chiuso il Marzocca, non ci sono spazi, ancora Zagaglia, ci prova con un'azione personale, si allarga, Visciano che riceve, può andare alla cross, la turista Zaldua, poi la palla per arrivare al limite dell'area del dischetto, sbaglia tutto Pucci, ancora un intervento di un difensore, poi la palla arriva tra le braccia di Brunelli, si ferma, va da Marengo, da quest'altra parte per Pucci, chiede palla a Mastro Luzzo, eccolo il cross per la vipera, il colpo di testa alto, palla direttamente, nell'area piccola si mangia un gol Zaldua, c'è spazio per Zaldua che può andare un 3 contro 3 per la Corintana, in attesa che stanno arrivando, però adesso è il giocatore del Marzocca, Zaldua vede Ruival che si libera in area di rigore, Franchino Ruival è il tiro, la parata di Brunelli, Zaldua dietro per Visciano ancora, il cross dove c'è Mastro Luzzo, torna il gol, Salvatore Mastro Luzzo, termina il primo tempo qui al del conero, Corintana in vantaggio 1 a 0, c'è Visciano per Ruival che può andare anche al tiro in porta, poi va in azione personale invece, eccolo il tiro, la palla finisce in rete, 2 a 0 per la Corintana, Franchito Ruival, la difesa ospite, poi c'è Pucci che prova il tiro, palla finisce fuori, Tomassini il cross Ruival, stop la palla, può andare al tiro fuori, Marengo, Zaldua prova l'azione personale, poi tende il tiro, e che gol ha fatto Ezequiel Zaldua, occhio a terre, palla in verticale per Bassotti, fermato, però c'è il tiro arriva in quest'anno già palla la Corintana con Egliacchetta, che va alla tiro, parata in due tempi, ecco il fischio dell'arbitro, invece pretenta un tiro, palla finisce alta veramente di poco, Brunelli con le mani, rischia tantissimo, Brunori, infatti arriva Visciano che palleggiando elegantemente prova anche il tiro, Juninho, Ruival, si ostacola con Bartoloni poi Egliacchetta che ha pensato per un attimo al tiro, eccolo, palla fuori, di poco allarga per Mercurio, che sale, quasi a limitare i rigori, la cross, il colpo di testa e infatti trombetta, fa 4-0, terre, fermata la trombetta, mancano 10 secondi, l'arbitro però decide che è game over Queste le immagini salienti del match, ci sarà modo domani sera, lunedì, con lunedì nel pallone di approfondire i temi legati all'Anconitana e non solo, è davvero tutto grazie e buon proseguimento Grazie a tutti